Naomi Campbell, l'immagine con i ritocchi tutti, il peggior fotomontaggio mai visto. Bella e impossibile. Anche grazie ai ritocchi. Naomi Campbell, nonostante la veneranda età di 50 anni, continua a mantenere alto il primato di top model ormai dagli anni 90. Ma, col passare del tempo sembra non essere mai invecchiata. O, perlomeno, si aiuta con Photoshop per non mostrare le rughe e i cedimenti del corpo. Seppure non ne abbia. Ma ecco che, sotto il post che ha pubblicato la modella, gli hater sottolineano la differenza con i filtri. Naomi è stata invitata alla celebrazione degli Oscar 2023. Presenziando al Vanity Fair Oscar Party. In abito schiaparelli bianco che risaltava il suo fisico. Con due conchiglie al seno, Naomi era perfetta. Pubblicando una serie di scatti su Instagram. Però, appare evidente il ritocco fatto con i filtri social. Belen, post misterioso dopo l'assenza alle iene. I fan, è incinta? Chanel Totti, capito una volta sola, state cogliere la chance. Il mistero del messaggio su Instagram. Impossibile non notare la pelle più liscia, senza alcuna ruga, lo zigomo più alto. Naso più piccolo e così via. Pioggia di commenti sotto il post da parte dei follower che si chiedono perché anche Naomi, che non ne ha bisogno, debba ricorrere a queste tecniche. Cancellate la prima foto. Sei fantastica senza Photoshop. Non devi modificare le tue foto si legge, e ancora, la prima foto è la peggior foto montaggiata che abbia mai visto. Lei è Naomi. E la sua squadra non è riuscita a trovare una sola bella foto? Perché il montaggio, sorella, questo era proprio necessario. Orice crezi, tine pentru tine. Fii egoista, liniști, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boyul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafferul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un pui salbatic a vestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe. Mafia, parasiții, dragonul, maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, shuapo. Grasul, nimeni altu, delvede sau carbo. Tre' să vă mănânci vers cu vers card intens. Tre' să crezi, crezi, ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu boss-ul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie când atunci.